La fiducia a Bersani. Credo che in questi giorni stia succedendo qualcosa di estremamente positivo per il Movimento 5 Stelle. Cioè gli elettori del Movimento 5 Stelle, una cosa paradossale che esistano degli elettori del Movimento 5 Stelle, e i militanti del Movimento 5 Stelle si stanno dividendo. Non è una spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle, è una chiarificazione. Fiducia a Bersani per il Movimento 5 Stelle ha lo stesso significato di un gruppo di persone oneste che vanno in Sicilia e dicono vogliamo combattere la mafia. Sarebbe come dire fiducia a Provenzano. Fiducia a Totorina. Esattamente la stessa cosa. Per combattere la mafia bisogna tenere duro fino alla fine. La stessa cosa accade con la casta, il sistema politico corrotto, degenerato, il sistema sociale, sociopolitico, perché la politica è lo specchio di una società che non funziona. Se vogliamo cambiare questo paese dobbiamo avere molta pazienza. Sono da una parte deluso e da una parte soddisfatto, deluso da una parte a vedere che probabilmente più della metà delle persone che hanno votato il Movimento 5 Stelle, cioè il 14-15% dei cittadini che hanno esercitato il diritto di voto, non mi piace chiamarli elettorato perché forse quello che loro non hanno capito è che loro si sono comportati da elettori e continuano a comportarsi da elettori di un partito. Ora quando scrivono sul blog di Beppe Grillo devi dare la fiducia a Bersani, mettiamolo ai voti. Ma non mettiamo proprio ai voti niente. Sarebbe come dire, per esempio, devi fare adulterio, un prete in una chiesa gli viene detto guarda io voglio fare adulterio e il prete dice no, non lo devi fare adulterio. Dice ma come sarebbe a dire no, non devo fare adulterio, mettiamolo ai voti, vediamo se sono d'accordo tutti gli altri. No, non esiste. Da questo punto di vista è vero, è vero. Il Movimento 5 Stelle ha anche l'aspetto un po' di una religione, nel senso che è una filosofia di vita, è un modo di concepire la vita, anzi è l'unico modo di concepire la vita possibile. Si parla mica di cose stralunate, campate in aria, si parla di onestà, di rettitudine, di meritocrazia, di un sistema pulito. In fondo ci basterebbe anche che il nostro paese assomigliasse di più a un paese scandinavo, energie rinnovabili, sostenibili, basta fare le cose per un interesse di uno a scapito di tutti gli altri, basta con Adam Smith e la mano invisibile. Ora siamo in un momento che abbiamo capito che non c'è nessuna mano invisibile che mette a posto le cose, che bisogna fermare questa degenerazione dell'essere umano e questo non si fa prendendolo a braccetto e facendo quello che vuole, ma si fa opponendosi a loro. Il giorno che il Partito Democratico o il Popolo delle Libertà avranno ripulito i loro partiti da persone incriminate, da persone che fanno la politica di professione, quindi che hanno fatto più di un paio di mandati, avranno accettato di diminuire i parlamentari, la spesa della politica, i costi della politica, gli stipendi dei parlamentari verranno ridotti drasticamente, così come abbiamo previsto nel Movimento 5 Stelle, ma anche in un'altra forma, non è detto. Su questo siamo molto elastici, se si tratta di migliorare il mondo, siamo tutti pronti a migliorare il mondo, se si tratta di migliorare l'Italia, siamo tutti pronti a migliorare l'Italia, ma appoggiare un governo Bersani, dare la fiducia a Bersani, non è migliorare l'Italia, sarebbe la fine del Movimento 5 Stelle perché comincerebbe malissimo, malissimo il suo percorso all'interno del Parlamento, contraddicendo una delle sue regole fondamentali. Un saluto a tutti.